Cosa pensi di questo Magna Grecia Film Festival? Beh, sono contentissima di essere qui, è un posto meraviglioso, ho visto tanta gente appassionata di cinema e onorata di essere qui con voi stasera e di salire su quel palco per parlare di cinema insieme a voi. Di che cosa parleremo stasera sul palco? Parlerò di un ultimo mio film che si chiama Un bacio con la regia di Ivan Cotroneo al quale sono molto affezionata perché parla di bullismo e di giovani ed è un argomento a cui bisogna raccontarlo molto quel mondo, quindi sono molto onorata di essere in quel film. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Beh, io sono mamma di un bambino di sette anni con Dino a Brescia che è l'attore con cui ho lavorato e mi sono innamorata di lui e quindi abbiamo un bambino di sette anni e so benissimo che cosa vuol dire. Dino a Brescia è tuo marito? Sì, non l'ho ancora sposato, siamo un po' chiari. Però avete un bambino assieme. Abbiamo un bambino di sette anni. Non si finisce mai di conoscere il mondo del cinema, avrei dovuto studiare un po' di più. Noi non siamo molto una coppia da gossip. Però siete una bella coppia, vi somigliate pure un po', devo dire. Sì, è vero, è vero. Quindi siamo un po' poco noti per quanto riguarda i nostri rapporti. Quindi questo film comunque lo hai sentito un po' di più? L'ho sentito molto, come madre innanzitutto e soprattutto per quanto riguarda il bullismo e quello che i ragazzi vivono anche nei rapporti tra di loro, nella scuola, Facebook. E quindi l'ho vissuto in maniera molto personale anche. Vogliamo salutare il pubblico del Magna Grecia Film Festival? Allora, ciao a tutti. Magna Grecia Film Festival, evviva, torneremo. Perché visto che Dino dice che torna, io torno con lui. Non lo lasciare solo, mi raccomando, perché vedo già una bella presenza, si presenta bene. Quindi mi raccomando, tienitelo stretto. Ok, grazie, arrivederci.